voce nell'impermanenza comunità per la via della conoscenza attraverso attilio masiero voce della quiete punto vagliano chiocciola gmail punto com a cura di vb andrea ma quando poi accade che l'uomo la smette di fare della vita il proprio dominio allora muore il suo protagonismo che il regno dei concetti e dei preconcetti di fatti per diventare protagonisti voi avete bisogno di definire ciò che vi appartiene e ciò che non vi deve appartenere ciò che potete accettare ciò che non potete accettare ciò che va contro di voi e ciò che invece vi agevola invece fuori dal protagonismo si incontra un'azione che non subisce più le predeterminazioni concettuali che la vostra mente pone su ogni cosa e perciò si entra in un'azione priva di steccati di preconcetti e di barriere tese a definire ciò che vi appartiene e ciò che non vi appartiene sarà poi la vita a presentare giornalmente nuovi confini e nuovi aspetti uno dei modi attraverso cui stabilite il vostro modo di vivere è proprio il creare barriere rispetto a ciò che la vita vi propone ma liberi dal protagonismo le barriere iniziano a scomparire poiché manca quell'impulso immediato a definire il proprio campo di azione ed il campo di azione degli altri normalmente nell'incontro con un altro ognuno di voi stabilisce qual è il proprio campo e qual è quello altrui che però non può essere un campo che si travasa sul vostro se non a certe condizioni quindi c'è un campo e c'è un altro campo e la precondizione all'incontro è che il suo campo non invada se non nel modo che voi stabilite come accettabile nel ridursi del protagonismo questi due campi diventano un luogo unico che appartiene alla vita parte proprio dalla vita la proposta rivolta ad entrambi di stare dentro l'indifferenziazione a 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